Con questa lezione iniziamo una serie di incontri legati all'esposizione fotografica. Uno degli argomenti sicuramente più importanti di tutta la fotografia di base è anche uno di quelli che crea maggiore difficoltà ai fotografi delle prime armi. Questo avviene innanzitutto perché l'esposimetro, che è lo strumento che dovrebbe aiutarci a trovare la corretta luminosità dei nostri scatti non sempre funziona correttamente soprattutto come vedremo nelle prossime lezioni in condizioni di luce estrema quindi quando per esempio abbiamo forti differenze di luce all'interno della scena come avviene in un tramonto l'esposimetro non ci aiuta più di tanto. Inoltre l'esposizione fotografica è frutto di diversi settaggi della fotocamera tra i principali abbiamo sicuramente l'ISO, il tempo e il diaframma e non sono solo questi quindi dovrai imparare a settare non un solo parametro dell'autofotocamera ma diversi. Inoltre questi parametri non sono standard quindi non possiamo avere un unico valore dell'ISO, un unico valore di tempo o di diaframma ma variano in base alla quantità di luce presente in scena. Come tutti sappiamo la luce durante la giornata è estremamente variabile quindi non puoi pensare di usare lo stesso tempo quando fotografi il tramonto o quando fotografi di giorno o di notte. La stessa cosa per il diaframma e per le ISO. Quindi in questa serie di approfondimenti cercheremo di capire come ottenere la corretta esposizione. Come abbiamo visto nella lezione della luce il problema principale di avere un'esposizione sbagliata è quello di avere fotografie sovra esposte quindi fotografie molto chiare dove la troppa luce che colpisce il sensore fa perdere di dettaglio ad alcune zone dell'immagine. Per esempio in questa fotografia puoi vedere una netta parità di dettaglio nelle zone sopra la finestra oppure possiamo avere fotografie sotto esposte dove la parità di dettaglio avviene per la poca luce che equipisce il sensore. In questa immagine puoi vedere per esempio che nel bordo per esempio destro abbiamo una netta parità di dettaglio e si distingue anche praticamente il mare. Quindi vista l'importanza dell'argomento non perdiamoci in troppe chiacchiere e iniziamo subito a capire come funzionano le diverse variabili iniziando a parlare del diaframma. Il diaframma è la componente che non si trova nel corpo macchina ma si trova all'interno di ogni obiettivo. E' caratterizzato come puoi vedere anche dalla fotografia da un foro circondato da delle lamelle. Questa conformazione che è molto simile al nostro occhio è l'ultima di una grossa evoluzione che ha avuto questa componente nel corso di cento e passi anni di storia. Pensa che all'inizio della fotografia praticamente non c'era l'obiettivo e il diaframma era costituito da un foro semplicemente su una scatola nel quale praticamente passava la luce e l'immagine veniva formata sulla parete opposta. veniva usata questa macchina che è chiamata anche questa parecchiatura foro senopeico da alcuni pittori per facilmente ricopiare la giusta prospettiva del soggetto e utilizzarla poi nei propri quadri. Successivamente il diaframma è cambiato, sono intervenute delle lamelle che si inserivano direttamente di diverse fessure che si infilavano direttamente all'interno dell'obiettivo. E poi ovviamente siamo arrivati a questa conformazione nel corso di vari step. Quello che non è mai cambiato nel corso della storia della fotografia è la funzione del diaframma, ossia quella di dosare la quantità di luce che attraverso l'obiettivo copi dal sensore. Infatti come puoi vedere anche da questa animazione le lamelle che circondano il diaframma non sono fisse, ma si aprono a diverse aperture per permettere di far passare più o meno luce. Ovviamente a grosse aperture avremo una grande quantità di luce che entrerà nella fotocamera, a piccole aperture avremo una minore quantità di luce che entrerà nella fotocamera. Ma quanto piccola e quanto grande, per capire questo bisogna inserire una nuova variabile, la scala dei diaframmi. Tutte le aperture del diaframma sono articolate su questa scala. Come puoi vedere vengono chiamate ogni apertura con il termine F che sta per focale e sono 1,4,2,2,8,4,5,6 e via dicendo sono quelle che vedi sullo schermo. Come puoi vedere l'incremento della scala è abbastanza normale, raddoppia di valore ogni due gradini 1,4,2,8,5,6,11 ovviamente si fanno appassimazioni e via dicendo. Quello che di solito risulta un po' strano perché comunque ragione in maniera inversa come ragioniamo noi di solito è che ad alti valori del diaframma, quindi per esempio F22, corrisponde una piccola apertura del diaframma, mentre viceversa a bassi valori di apertura, quindi per esempio F2, abbiamo una grande apertura del diaframma. Quindi ragione in maniera nettamente diversa come facciamo noi di solito. Di solito associamo un numero grande una grande apertura e un numero piccolo una piccola apertura, invece è completamente opposto. Questo è un passaggio fondamentale per capire la scala dei diaframmi e saperla poi usare al meglio per calcolare la corretta esposizione. Adesso bisogna capire come varia la luce al variare di ogni stop, quindi la luce che entra con F2, quanto è minore della luce che entra con F8? Per fare questo introduciamo un altro concetto fotografico molto importante che sono gli stop. Gli stop è un'unità di misura usata in fotografia che misura praticamente le quantità di luce presente in scena. Lo troviamo infatti quando si parla per esempio della scala delle ISO, lo troveremo poi nella scala del tempo e ovviamente nella scala del diaframma, ma si trova poi anche parlando di stabilizzazione, quindi un gergo fotografico lo stop che viene usato molto spesso. Gli stop fotografici presentano una scala 2, quindi vuol dire che ad ogni momento di uno stop la fonte luminosa che colpirà il nostro sensore sarà raddoppiata. Viceversa quando si ha una diminuzione di uno stop la luce che colpisce il nostro sensore sarà dimezzata. Vediamo ora cosa vuol dire questo nella nostra scala dei diaframmi. Vuol dire che la luce che colpirà il sensore a F2 sarà il doppio della luce che colpirà il sensore a F2 e F2. Questo perché abbiamo detto che ogni step di questa scala è uno stop, quindi tra 1 e 4 F2 c'è uno stop, tra F2 e F2 c'è uno stop, tra 2 e 8 F4 c'è uno stop e via discorrendo. Quando noi passiamo da F2 a F2 l'apertura del nostro diaframma decresce, quindi vuol dire che diminuiamo la luce, diminuiamo di uno stop e quindi vuol dire che tra F2 e F2 e F2 avremo esattamente la metà della luce entrante. Viceversa se noi facciamo una fotografia con F16 e poi facciamo un'altra fotografia con F11, la fotografia con F11 sarà ovviamente molto più chiara della fotografia con F16 perché avremo diminuito di uno stop la scala dei diaframmi e quindi il buco sarà più grande e passerà ovviamente più luce. Sembra un concetto difficile ma ti assicuro che è molto più difficile da spiegare che da vedere. Vediamo innanzitutto alcune fotografie. Questa serie di scatti l'ho realizzata qui in casa utilizzando una composizione semplice, alcuni giocattoli preferiti di mio figlio e vediamo come varia la luce presente in scena al variare del diaframma. Quindi tutti questi scatti qua sono stati fatti con lo stesso tempo, lo stesso ISO, l'unica cosa che cambia è l'apertura del diaframma. Quindi ricapitolando, salendo la scala dei diaframmi la luce si dimezza a ogni gradino, mentre scendendo la scala dei diaframmi la luce raddoppia a ogni gradino. Questo è un altro concetto fondamentale per capire la scala dei diaframmi. Vediamo ora cosa vuol dire un po' più tecnicamente il termine F in maniera molto generica perché comunque non voglio andare troppo nel dettaglio. F è semplicemente il rapporto tra la focale massima del nostro obiettivo diviso il diametro massimo dell'apertura del diaframma. Quindi per esempio vuol dire che se noi usiamo un obiettivo con focale di 100 mm e un'apertura massima di F2 vuol dire che l'apertura massima del nostro diaframma, di quel diaframma, sarà 100 diviso 2 uguale 50 mm. Mentre se usiamo un obiettivo di 35 mm come questo qua rappresentato in figura, con F1.8 vedi che comunque l'apertura massima del nostro diaframma è sempre rappresentata all'interno dell'obiettivo, scritto bene e evidenziato all'interno l'obiettivo perché è una caratteristica molto importante come vedremo poi anche più avanti. Quindi 35mm la focale diviso 1.8, l'apertura del diaframma, avremo un'apertura fisica del nostro diaframma di 19,4 mm. Questo è solo per capire cosa si intende appunto con il termine F e come è nata la scala dei diaframmi e perché gli obiettivi sono così diversi sia per la forma, quindi per la lunghezza dell'obiettivo, ma anche la lenta anteriore è molto diversa, proprio per questo motivo per non informare tutti gli obiettivi su questa scala in modo tale che ogni incremento di questa scala ci sia sempre un valore 2, quindi un dimezzamento o un raddoppiamento della luce. La scala dei diaframmi la puoi vedere di solito nel barilotto degli obiettivi anche se alcuni non la presentano ed è ovviamente presente all'interno del nostro corpo macchina. Una cosa da fare attenzione all'interno del corpo macchina è il fatto che potessi avere una diversa scala dei diaframmi. Diversa in che senso? Semplicemente è una scala leggermente più accurata. Nella nostra fotocamera di solito abbiamo la funzione, come puoi vedere anche dal video, di spezzare lo stop in o un mezzo di stop o un terzo di stop, quindi avviare una scala con dei valori intermedi. Non avremo quindi solo f1.4, f2, f2.8 e via dicendo, ma avremo anche altri valori, f2.2, f2.5, f2.8, f3.2, f2.2 come puoi vedere anche qui dal video. Dipenderà poi la scala a seconda che tu usi un mezzo di stop o un terzo di stop. Quello dipende poi dai propri gusti, comunque dal proprio modo di fotografare. La cosa importante che devi tenere presente è che muovendoti con la rotellina nella scala dei diaframmi, se per esempio hai impostato un terzo o un mezzo di stop, non vai a raddoppiare la quantità di luce, perché comunque non aggiungerai uno stop, ma semplicemente è un mezzo di stop o un terzo di stop. Questo fattore, come vedremo poi successivamente, è da tenere insieme a considerazione, perché potremo sennò avere un calcolo dell'esposizione sbagliata quando ci baseremo sul triangolo dell'esposizione per trovare la giusta luminosità della nostra scena. Quindi, ricapitolando i concetti fondamentali che abbiamo analizzato in questa lezione, abbiamo che il diaframma si trova all'interno dell'obiettivo, che le lamelle del diaframma si muovono e quindi abbiamo delle diverse aperture per dosare appunto la quantità di luce che entrerà all'interno dell'obiettivo. Abbiamo che salendo la scala la luce si dimezza ogni gradino, mentre scendendo la scala la luce raddoppia ogni gradino, oppure si può dire che aumenta o diminuisce di uno stop. Ricordati che nella fotocamera sono presenti diverse scale, quindi possiamo avere un mezzo di stop o anche un terzo di stop, e poi un fattore che abbiamo saltato precedentemente, ma che comunque analizzeremo poi successivamente nelle prossime lezioni, l'apertura del diaframma influenza la profondità di campo. La profondità di campo è semplicemente la zona nitida all'interno della nostra fotografia. A grandi aperture, quindi quando siamo nella scala dei diaframmi a f2, f2.8 e via dicendo, quindi a valori molto bassi, abbiamo poca zona nitida, quindi una poca profondità di campo. La zona nitida della nostra fotografia si riduce, essenzialmente al punto dove metti a fuoco. Man mano che poi saliamo nella scala dei diaframmi, quindi passando per esempio a f16 e f22, abbiamo un aumento esponenziale della profondità di campo e quindi tutta la fotografia diventa praticamente nitida. Ma come ti ho detto in precedenza, questo concetto lo analizzeremo più avanti. Adesso occupiamoci solo dell'esposizione fotografica e passiamo alla prossima lezione e parleremo della scala dei tempi.